Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire, non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò il rapporto è più vasto, perfino di quelli. Buonasera a tutti, benvenuti. Saluto e ringrazio tutti voi qui presenti al Teatro dal Verme di Milano e tutte le persone collegate dall'Italia e dall'estero. So dai nostri amici che si trovano nelle varie sedi dove sono stati attivati collegamenti, che diverse personalità della Chiesa e della società civile partecipano a questo incontro. Così come anche molte persone che non appartengono al Movimento di Comunione e Liberazione. Quindi vi ringrazio per la vostra presenza e spero che questa sia un'ulteriore occasione di conoscerci meglio. Abbiamo appena sentito da Don Giussani introdurre così il tema del senso religioso. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente, più inestirpabile della storia dell'uomo. L'audio è tratto dal podcast prodotto da Cora Media e disponibile online che ripercorre tutti i contenuti del senso religioso, per la prima volta con la viva voce di Don Giussani appunto. Già in questo estratto che abbiamo ascoltato, seppur breve, si coglie molto bene, credo, l'intensità con cui Don Giussani introduceva innanzitutto i giovani ma chiunque incontrava al tema del senso religioso. La passione vibrante con cui invitava a prendere sul serio con tutta la propria ragione e tutta la propria umanità quel desiderio di senso, quella tensione all'infinito che ogni uomo sperimenta e si trova addosso. D'altra parte, proprio questa sua convinzione ha alimentato da sempre il suo instancabile impegno nell'educazione dei giovani. Ricordiamo una sua frase celebre riportata nel libro Porta alla speranza. Noi soffochiamo i giovani se pretendiamo da loro un entusiasmo per le cose limitate. E per Don Giussani è limitata ogni proposta che non sia tesa ad aprire lo sguardo, a introdurre un'esperienza di significato totale per l'esistenza. Come molti di voi già sapranno, Don Giussani dette forma compiuta i contenuti di quelle lezioni e di quelle che aveva tenuto prima al liceo Bershè e poi all'università cattolica. Appunto nell'edizione del 1986 del libro Il senso religioso, il più noto tra quelli di Don Giussani e tra l'altro anche il più tradotto nel mondo. Di questo libro è stata appena resa disponibile una nuova edizione, edita dalla Burr, anzi approfitto per ringraziare la Rizzoli e il gruppo Mondadori, di cui sono qui presenti alcuni autorevoli rappresentanti, per la loro fondamentale proficua collaborazione che da molti anni caratterizza alle nostre iniziative editoriali. Si è deciso di realizzare questa nuova edizione perché la comunità di comunione e liberazione, in Italia e nel mondo, torneranno a utilizzare questo testo nei momenti di scuola di comunità. Mi permetterò quindi al termine dell'incontro di prendere pochi minuti per spiegare meglio di cosa si tratta, dato che è un gesto aperto a chiunque sia interessato ad approfondire questi temi, non solo per i membri di CL. Ma tornando al libro, la sua ripubblicazione ci ha dato in particolare l'opportunità di arricchirlo con una nuova prefazione. Si tratta di un intervento che fece nel 1998 l'allora arcivescovo di Buenos Aires, Orge Mario Bergoglio, in un incontro di presentazione del senso religioso in lingua spagnola. Ringrazio ancora una volta il Santo Padre per averci dato il suo assenso a riproporre questa sua riflessione. È davvero impressionante l'attualità delle sue parole. Diceva, infatti, il senso religioso non è un libro a uso esclusivo di coloro che fanno parte del movimento di CL. Neppure è solo per i cristiani o per i credenti. È un libro per tutti gli uomini che prendono sul serio la propria umanità. Oso dire che oggi la questione che dobbiamo maggiormente affrontare non è tanto il problema di Dio, l'esistenza di Dio, la conoscenza di Dio, ma il problema dell'uomo, la conoscenza dell'uomo e il trovare nell'uomo stesso l'impronta che Dio vi ha lasciato perché egli possa incontrarsi con lui. È anche reagendo a questo testo del futuro Papa Francesco che abbiamo pensato di organizzare l'evento di questa sera. Una presentazione pubblica, quindi aperta a tutti, di un libro che riteniamo essere un'attualissima, affascinante provocazione all'uomo di oggi. Abbiamo invitato ad approfondire, a rendere concreto questo spunto, Don Javier Prades, rettore dell'Università Ecclesiastica San Damaso di Madrid, professore ordinario di teologia dogmatica. A lui il nostro sincero grazie per la sua disponibilità e ringrazio anche la giornalista Irene Alisei alla quale abbiamo chiesto di condurre il dialogo di questa sera. Grazie e a voi la parola. Buonasera a tutti, ringrazio Davide Prosperi, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione. Un criterio oggettivo, un'esperienza elementare di cui tutte le madri allo stesso modo dotano i loro figli, l'esigenza della bontà, della giustizia, del vero, della felicità, costituiscono il volto ultimo, l'energia profonda con cui gli uomini di tutti i tempi, di tutte le razze, accostano tutto. E noi leggiamo con emozione frasi scritte migliaia di anni fa, dagli antichi poeti con un'impressione di suggerimento al nostro presente, come talvolta non deriva dai rapporti quotidiani. Perché ciò è possibile? Perché questa esperienza elementare è sostanzialmente uguale in tutti, anche se poi sarà determinata, tradotta, realizzata in modi diversissimi, apparentemente persino opposti. Sono voluta partire da queste righe che Giustani scrive nelle primissime pagine del senso religioso, anche se non sono molto probabilmente le più note o le più citate, perché ci permettono di partire tutti dallo stesso punto, perché richiamano a qualcosa che possiamo aver vissuto tutti, anche fosse solamente una volta durante gli anni scolastici, quando siamo rimasti colpiti particolarmente dal verso di una poesia, dal titolo di un libro, ascoltando un brano di musica classica o la strofa di una canzone. Non a caso, il senso religioso di Don Giustani è ricchissimo di citazioni. Uno degli autori che cita più spesso è Giacomo Leopardi, e mi ha colpito moltissimo, colpisce tutte le volte che la si legge, una poesia a cui fa riferimento Leopardi, qui, scritta ormai quasi 200 anni fa, il canto notturno di un pastore errante dell'Asia, il pastore da solo che si interroga, e Giustani riprende queste righe, e quando miro in cielo arder le stelle, dico farmi pensando a che tante facelle, che fa l'aria infinita, e quel profondo infinito seren, che vuol dire questa solitudine immensa, ed io che sono? Queste sono le domande esistenziali, questa è la cifra del senso religioso, ma lo abbiamo sentito pochi istanti fa dalla voce di Don Giustani, lui parla di senso religioso come un fatto, mentre comunemente lo sentiamo come spesso una questione di sensibilità. Più o meno sono sensibile e più o meno spesso mi pongo certe domande. Allora, la prima mia questione, quello che mi preme subito è, che cosa davvero ci aiuti a definire, che cosa Giustani intende per un fatto quando parla di senso religioso? Buonasera Irene, innanzitutto, buonasera a tutti, e volevo cominciare ringraziando Davide Prosperi dell'invito che mi ha rivolto per tenere questo dialogo oggi su questo libro eccezionale di Don Giustani. Ecco, appena abbiamo sentito, è un fenomeno obiettivo, è un fatto reale, è una realtà, non è un'idea, non è un sentimento, e poi dice è il fenomeno più imponente nella storia dell'uomo, perché la risposta compiuta la troveremo man mano che leggeremo il libro insieme, ma possiamo subito richiamarci a un altro passo del Don Giustani dove lui dice così, dice, chiamo senso religioso il cuore dell'uomo, la sete di verità, di felicità, che si rivolge al bene ultimo, al significato totale, che cede la nostra possibilità di immaginazione e di definizione, e che pure è la ragione di tutto l'agire, senso religioso e il vertice della ragione, perché ragione è coscienza della realtà secondo la totalità dei suoi fattori. Prendiamo in mano queste parole adesso, sete di verità, sete di felicità, possiamo già riconoscerle. Orientamento ha un significato totale, che cede la mia immaginazione e la mia capacità di definire, e che pure è la ragione del mio agire. E richiama dunque la sua nota definizione di ragione come coscienza della realtà secondo la totalità dei fattori. Sete di verità, sete di felicità, che non riesco a immaginare, che non riesco a definire, e che pure muove e orienta tutto il mio agire. Ecco la sua preoccupazione. E aggiunge un po' dopo. Per questo, il senso religioso è la posizione esatta, come coscienza, e tentativamente come atteggiamento pratico dell'uomo di fronte al suo destino. Perché è un fatto imponente, perché all'interno di questa posizione giusta, come coscienza e tentativamente come atteggiamento, ci sta dentro tutto l'umano vivere, di ognuno di noi singoli, e delle società, dei popoli, dell'intera umanità. E per questo è una realtà imponente. Lo approfondiamo ancora. Prima però ho una domanda semplice ma essenziale. Perché è utile rimettere a tema oggi il senso religioso? A Milano si corre moltissimo, non so a Madrid, ma siamo sempre indaffarati e sembra sempre una questione che si può rimandare, non in qualche modo. Bisogna avere buone ragioni per proporre a qualcuno la lettura di un libro che si concentra sulle domande, mentre tutto il mondo intorno a noi si affanna a cercare risposte nel più breve tempo possibile. Ecco, qual è il contesto di oggi? Lo dico con una formula felice che il Papa Francesco ha reso popolare. Lui dice che ci siamo in un cambiamento d'epoca. Si può ridurre a slogan, che si deve citare, poi si passa ad altro, ma secondo me, se invece si vuol prendere sul serio, vuol porci tutti davanti ad un orizzonte di cambiamenti molto profondi delle nostre società che alcuni autori addirittura indicano come una rivoluzione antropologica. Per cui il momento in cui siamo, dove si recupera questo libro, è un momento in cui la portata dei cambiamenti, dei mutamenti, toccano veramente che cosa sia l'umano, quale sia l'identità umana. Se volesse descrivere i fenomeni che rientrano in questa diagnosi, cioè dovremmo adesso fare un lavoro che sarà molto bello da farsi in sede di approfondimento culturale, ma mettiamo il polo tecnologico, per dirla sinteticamente, la famosa convergenza NBIC, la nanotecnologia, la biotecnologia, la tecnologia dell'informazione e le tecnologie cognitive che riassumono brevissimamente tutto un mondo che possiamo evocare senza troppe difficoltà su una delle dimensioni dell'orizzonte in cui ci troviamo. Ma c'è un altro polo, c'è un altro versante che è anche molto presente per quanto riguarda questo cambiamento d'epoca che ha a che fare con diciamo più direttamente con l'umano. Questa crescente autoaffermazione dei singoli slegati dai rapporti, una autodeterminazione intesa sempre più in chiave di sentimenti e pensiamo alle definizioni sul narcisismo nelle nostre società. Anche qui si potrebbe aprire, si può e si deve aprire un altro orizzonte di questioni tutto sommato volendo anche riassumere andrei verso un giudizio che aveva dato allora Papa Benedetto XVI quando parlava di uno squilibrio fra le possibilità tecniche gigantesche e di per sé utilissime al benessere delle nostre società ma lo squilibrio fra ciò che lui chiamava le possibilità tecniche e l'energia morale e diceva questo interessante la sicurezza di cui abbiamo bisogno come requisito per la nostra libertà e la nostra dignità non può venire in ultima analisi dai sistemi tecnici di controllo non saranno i sistemi a renderci sicuri ma deve scaturire solo dalla forza morale dell'uomo perché se questa forza manca o è insufficiente il potere dell'uomo si trasformerà inevitabilmente e ogni giorno di più in un potere di distruzione non è detto che sarà così può essere ma quello che lui chiama energia morale possiamo dire statura umana presa in senso integrale ci accompagna molto bene alla preoccupazione che aveva il Don Giuse quando propone il libro e il suo cammino educativo quando lui ha parlato con una formula che è più nota per alcuni di noi quando ha detto la perdita del senso del io cioè lo smarrirsi di questa energia morale che diceva Benedetto questa comprensione integrale viva dell'umano che può giustamente usare bene il potere o può essere schiacciato dal potere diceva il Don Giuse dietro la parola io c'è una grande confusione eppure comprendere che cosa è il mio soggetto vale a dire che cosa sono io è il mio primo interesse perché e questa è la radice di ogni mia azione se si trascura il proprio io è impossibile che siano miei i rapporti con la vita e il mondo diceva lui adesso è impossibile che ci sia la vita il cielo la donna l'amico la musica che queste realtà siano mie e c'è dicevo allora un po' di anni fa c'è molta pressione dal mondo che ci circonda mass media scuola politica che ingombra il tentativo di prendere coscienza di sé del proprio io e se la nostra personalità è schiacciata letteralmente soppresa tanto da rimanere come inebetita lo subiamo tranquillamente tutti i giorni ecco lui non ci vuole lasciare tranquilli su questo io sono uno di quelli che soffre essere schiacciato nella sua personalità senza batterci io e il Don Giuse mi spinge dal dietro dal davanti da tutte le parti e dice uè svegliati perché se tu non ci sei nulla di ciò che dici fai proponi desideri sogni soffri è tuo e aggiungo un'ultima cosa scusami ma non è soltanto fin qui che molto di passeggia sarebbe sufficiente per essere grati il cardinale Bergoglio allora quando fa la prefazione insiste poi su un'altra dimensione molto interessante e molto decisiva per noi quando dice se uno è così spento moscio mezzo morto e a un uomo così dice il fatto di parlargli di Dio gli può risultare un discorso astratto esoterico o una devozione senza incidenza sulla sua vita riscattare l'umano è strada per riaprire umanamente la domanda su Dio e se non ci sarà la domanda e non si sarà la risposta su Dio tutti i rischi di cui prima porteranno molto più probabilmente verso quel uso del potere degli uomini contro gli uomini ecco quando torniamo oggi su questo fatto prendiamolo come come lo presentava lui un invito a recuperare la semplicità e l'autenticità della nostra condizione umana il fascino di essere uomini ci vorrà pur qualcuno che ci che ci ridoni il fascino di essere uomini allora parlavi di questo invito l'invito ad essere ad essere uomini il senso religioso che è sicuramente il testo più più tradotto più conosciuto di Don Giussani è la prima parte di un percorso di un invito che Giussani iniziò a fare ai ragazzi incontrati a scuola al liceo bercè metà gli anni 50-60 ragazzi che nei quali ritrovava una fede molto legata alla tradizione ma priva di basi solidi e lui le chiamava ragioni adeguate e inizia questo questo percorso educativo che poi appunto si arricchirà anche di altri libri ed è appunto al al centro del della novità di Giussani e qui arrivò la domanda lui di fronte a questi ragazzi che avevano questa fede legata alla tradizione ma priva di ragioni adeguate ecco per capire perché valeva la pena credere lui è partito dalla ragionevolezza delle domande prime un'inversione no? cioè piuttosto che analizzare il singolo problema io parto parto a monte questo sembra rivoluzionario di per sé e per chi Giussani non l'ho mai conosciuto io non l'ho mai conosciuto leggendo il libro ti viene riproposta in continuazione quasi una domanda io me la sono sentita porre queste domande esistenziali di cui parliamo un uomo soprattutto un uomo moderno ragionevolmente può porsi queste domande può davvero farsele allora ti chiedo se questo punto questo uso della ragione e il senso religioso sono la grande novità di Giussani nell'affrontare il tema possiamo definirlo così? sì un po' di anni dopo il Don Giussi ha scritto una prefazione per le edizioni successive e in un certo punto che qui all'inizio lui spiega cosa vuol fare qual è il suo tentativo cosa si propone di fare e dice e fa così per affrontare la realtà la realtà di tutti quelli di allora oggi noi tutti per capire per intendere la vita per intendere se stessi gli altri tutto l'uomo lo fa con la ragione e questa è già un'opzione molto forte molto forte perché ce n'è tante alternative in giro sul rapporto coreale che non sono precisamente la ragione in senso integrale di ragione come può essere il sentimento o l'irrazionalità pura non ci sono ragioni c'è lo sbalzo dell'istinto l'emotività Dio sa quante altre cose lui invece dice qui lo cito la ragione ci definisce come uomini dobbiamo avere la passione della ragionevolezza e questa passione il filo conduttore del discorso che faremo proprio per questo il primo volume dell'intero percorso senso religioso quello di oggi si apre con una triplice premessa di metodo che aiuti a penetrare il modo con cui la coscienza di un uomo per natura ragiona qui è molto per me è molto bello molto interessante cogliere da una parte l'originalità del Don Giuse tratti originalissimi secondo me della sua proposta educativa per farci entrare nella totalità reale e dall'altra parte a ben guardare segue la migliore tradizione cattolica perché da Agostino a Tommaso a Newman non c'è un grande nella storia della fede della Chiesa che nel provare a trasmettere la fede non si sia posta la questione sulla ragione e non abbia lottato in favore a favore della ragione per cui possiamo dire per i nostri tempi ci troviamo una figura che prolunga questa sensibilità questa modalità di approccio al reale per sé e come spunto educativo e così ridestando la ragione dicevi tu le domande il cammino che propone il Don Giuse può anche venire incontro a un'obiezione che tanti anni fa Joseph Ratzinger aveva intravisto nella Germania di allora parlo di primi anni settanta in un libro molto noto suo e si domandava Ratzinger allora è piovuto ma perché questo fallimento nella trasmissione della fede perché perché non riusciamo più ad attaccare e lui allora rispondeva non è mancata la chiarezza delle nostre risposte cristiane e parlava nella Germania degli anni settanta qualcosa sapeva pure lui quanto il cogliere queste risposte cristiane in rapporto alle domande umane e lui incideva su questa difficoltà che gli faceva pensare come in due mondi paralleli per cui le risposte potevano anche essere giuste erano giuste potevano esserlo eppure non incontrando l'altro o sorvolavano o si mettevano accanto ecco questo aver abbandonato il dramma umano le domande la passione per la ragionevolezza del vivere che a mio avviso è uno degli elementi di questa situazione in cui ci troviamo di cui spesso non sappiamo veramente trovare la spiegazione quando dice va bene allora incomincio faccio le mie tre premesse di metodo e dice la prima premessa realismo la seconda la ragionevolezza e la terza la la moralità nel conoscere iniziamo la nostra ricerca con queste premesse e dice ma che tipo di ricerca vogliamo intraprendere ecco seguiamo il realismo l'oggetto detto il metodo qual è l'oggetto l'oggetto è la persona la persona non la definizione di persona ma la persona che sono io che sei tu che ognuno di noi e allora qual è la modalità di indagine realistica se si tratta di conoscere che cosa è una persona ma chi sono io leopardi dixit che sono io così secondo me si trovava negli anni nell'Italia degli anni 50 avanti la lettre la risposta alla domanda di Ratzinger degli anni 70 sono paragoni storici un po' azzardati che faccio io però mi sembra che possano essere utili c'è un modo di proporre i contenuti veri le risposte giuste che vengono dal mistero rivelato che adentro porta con sé l'interlocuzione vivente con se stesso e con l'altro ed è questo che consente di di capire il contenuto di ciò che viene proposto come pertinente come adeguato e dunque come conveniente per me e per tutti Ratzinger allora diceva e che facciamo questa questo è il falimento rimaniamo così e dice quello che ci è mancato ricominciamo subito il mitfragen facciamoci le domande insieme con loro insieme con tutti recuperiamo le nostre le nostre domande come espressione di questa apertura della ragione verso ciò che non può immaginare e che non può definire questa mi sembra una delle proposte più caratteristiche più originali e potenti della proposta di Giussani perdonami questo mi sembra che abbia una valenza anche da un punto di vista di dialogo cioè così tu puoi parlare davvero con tutti perché non proponi solamente tu dicevi no anche proponendo una un criterio giusto una ragione giusta rischi di non incontrare l'altro trovi un muro dall'altra parte rischi innanzitutto di non incontrare te e questo questo è molto peggio ma è vero è verissimo che dice ma io ho detto il vero come mai questo qua non mi viene dietro ci sono tante ragioni per amor di Dio però che non ci sia questa dimensione di coinvolgimento nel dramma umano oscura toglie la la forza di di annuncio che che caratteristica della della proposta del Don Giuse questa secondo me io nel mio piccolo quello che ho visto è che giocare te con questa ipotesi ti apre tante porte una porta aperta è una porta aperta non vuol dire che sei arrivato ma la porta si è aperta poi vediamo si comincia a camminare a volte ti sbattono la porta in faccia questo è impreventivo sempre sempre e ricominci ma tanto più ricominci quanto più sei te stesso appassionato al fare il cammino insieme con l'altro perché l'altro e l'altro è qualcosa qualcosa di te dicevi che valeva la pena proporre un libro così fermarsi a leggere in questo momento dedicare delle ore del lavoro a un libro così perché anzitutto ti permette di recuperare te lo dicevi adesso anche nella risposta che davi a quest'ultima domanda ed è una questione di coscienza mi sembra di capire che sia una questione anche di coscienza il fatto che la vita a un certo punto non te la cosciente non te la senti più scorrere addosso ma riesci a coglierne la profondità e qui arriviamo anche al concetto di esperienza faccio su questo un esempio rapidissimo siamo già nello scambio non previsto di questa tavola rotonda ma durante le vacanze di Pasqua ero a casa dei miei genitori c'era la musica classica ascoltando la musica classica leggendo alcune cose mi sono accorta che le mie figlie stavano ridendo ridevano anche prima ma a un certo punto questo mi ha portato a commozione questo è il non ti chiedo quanto c'entra questo con l'esperienza di cui parla Giustani perché uno dei concetti che sviluppa tantissimo e che di nuovo anche qui in maniera molto diversa da come quotidianamente normalmente sentiamo parlare di esperienza ecco quanto c'entra questo il fatto di percepire la profondità e quel momento di cui tu stai vivendo che partecipe secondo me è decisiva la categoria per l'impianto complessivo della posizione umana e cristiana del Don Giuse e lui ci teneva e ci tiene nel libro a precisare cosa intende lui con la categoria di esperienza per tante ragioni ma anche teologiche perché lui sapeva bene quanto questa categoria era stata sospetta nei primi 30-40 anni del XX secolo per l'autorità anche della Chiesa per cui non si scherzava su questo ma soprattutto perché ci si giocava la pelle dei ragazzi e la pelle di tutti e lui ha subito voluto precisare cosa intende come fare esperienza riguardo al fare esperienze provo a dirlo così oggi che cosa vuol dire fare esperienze vuol dire un provare senza criterio e non sarà esperienza non si può dire tale in senso umano compiuto se non ha internamente il paragone con dei criteri di giudizio dice lui che consentono scusate di illuminare i fattori in gioco fino a cogliere la pienezza delle proprie esigenze e la verifica delle evidenze che costituiscono il cuore dell'esperienza stessa l'esperienza capita in un senso integrale con dentro questi criteri che la rendono capace di giudizio permette di affrontare le questioni tutte della vita e ci si accorge di crescere questo secondo me è il centuplo qua giù ci si accorge di crescere non in questo particolare settore dell'attività umana o in questo o in tanti ma riguardo la questione centrale della vita il senso dell'esistenza che io mi accorga di crescere col passare degli anni sul senso del vivere è il centuplo qua giù poi la vita eterna l'intelligenza del reale la passione per la ragionevolezza non è un esercizio a tavolino non può esserlo è il tavolo molto importante per taluni di noi è decisivo per il nostro mestiere ma non può essere raggiunto a tavolino per nessuno di noi neanche per chi fa il mestiere suo di lavoro al tavolo ma si guadagna questa intelligenza del reale si guadagna dall'interno del paragone con reale faccio scusatemi un po' banale ma io posso scrivere sulla lavagna le mamme vogliono bene i bambini i bambini sono voluti bene dalle mamme ma per il bambino che è seduto là la frase non lo abbraccia non lo consola è vera indistruttibilmente vera ma il bambino coglierà il contenuto di intelligenza del reale che esprime la frase in quanto abbracciato dalla madre si sente veramente in grado di senza parole confermare se potesse parlerebbe griderebbe la mamma mi vuol bene e se questo scusate l'esempio semplice ma questa cosa serve anche per quello che ho appena detto sui criteri che costituiscono il cuore umano Giussani dice questi criteri ognuno di noi è dotato con questi con cui può paragonare ogni cosa sono dati per natura sono dati nella nostra condizione posti dalla condizione umana o usando un'espressione molto sua sono criteri immanenti alla struttura originaria della persona mi soffermo un attimo su questa prima dimensione dei criteri che senza i quali non si fa esperienza non si cresce sul vivere sul senso del vivere che sono criteri oggettivi uguali per tutti dentro di noi ma ci sono dati immanenti alla nostra struttura ma non disponibili non appunto non disponibili in senso profondo da noi stessi ma non è che dobbiamo dare retta a Giussani perché lo dice lui tanto meno a me perché lo dico io occorre vederlo questo occorre occorre vederlo come il bambino che può confermare la verità della frase sulla mamma mi aveva colpito prova a dire dove e come lo vedo un paio di anni fa o due o tre anni fa leggendo un poeta spagnolo contemporaneo Carmelo Iribarren mi aveva colpito una poesia di due righe due righe intitolata Madrid metropolitana notte e fa così gente esausta con gli occhi fissi a terra che si interroga sulla vita quella vera perché non può essere soltanto quello gli occhi fissi a terra ci si interroga sulla vita quella vera perché non può essere soltanto quello gente comune che lavora da matti che torna a casa distrutta la sera in metropolitana spenti guardando per terra ma che cosa è la vita poeta ha ragione e ha ragione a cogliere a leggere il cuore di quelle persone e la cosa più imponente che a me colpisce come fanno loro a sapere che la vita non può essere soltanto quello chi l'ha detto chi l'ha detto non l'ha detto nessuno o sì e non è perché hai avuto prima una vita da ricco e poi hai perso tutto e ti torni a casa alla metropolitana alla notte e dici caspita avessi io il chauffeur la macchina e allora mi manca questa vita no puoi non averla avuta mai non hai visto un'altra vita eppure sai che la vita non può essere soltanto questo e allora da dove viene questa certezza chi grida in me quale voce grida in me questa esigenza di vita vera e se poi la giri in positivo e dici va bene la vita non può essere soltanto questo tu sei lì e fatto distrutto a pezzi metropolitana dimmi quale sarebbe la vita vera se provate a farlo non dico quello della metropolitana chiunque di noi io sono della metropolitana tra l'altro anch'io e cominci a dire allora che cosa è la vita la vita vita direbbe Agostino che cosa è la vita vita cominciate a mettere degli ingredienti e provate a capire dove vi fermate dove potreste dire ecco è questa la vita interessantissimo quando uno vede questo dice ma ma ci sarà uno al mondo che si concepisce come schiavo che lavora come come uno schiavo e e e e non coglierebbe questo gap con una vita che non sarebbe soltanto quello sono cose da da sorprendere questa è un po' diciamo complessiva sul senso della vita ma emergono in tanti episodi magari anche più semplici io vi racconto uno molto banale anche per fare un po' di un po' di pausa io sono docente insegno teologia da tanto tempo e po' di anni fa oramai mi trovavo uno studente che si sedeva nel banco più indietro che più indietro non si poteva visibilmente disinteressato a ciò che io dicevo io ritenevo così e quando un docente vede uno così sinceramente incomincia a pensare non troppo bene sul tizio in questione va bene sarà stato primavera più o meno e poi io ero al mio ufficio da docente per ascoltare studente mi suona lì e questo qua va bene e guardi io allora cosa vuoi guardi io di solito non parlo mai con i docenti bene poi lei mi è particolarmente antipatico va bene e poi a me questa comunione e liberazione non mi piace ecco ragazzo forse ho sbagliato porta che ti devo dire e allora come mai sei qui io guardi io da prima di Natale sto facendo molta fatica e sto pensando di mollare tutto ho chiesto aiuto mi hanno dato dei consigli forse anche saggi e buoni ma io non mi smuovo non vedo che niente mi aiuti e mi sono accorto che ascoltando lei a lezione mi sta aiutando caspita e guarda quello che a me è venuto di capire a me quel giorno lì guarda ringrazia Dio adesso di ciò che ti è successo perché tu ti sei accorto di qualcosa che è talmente vera che ha mosso e ha attraversato tutti i tuoi pregiudizi sei stato legato dalla luce e dalla diceva il Don Giuse dalla cogenza della verità che non ti lega a me caro mio io sono stato un tramite ti lega all'esperienza del vero che hai fatto adesso di cui sono io di benzone se io ti sto antipatico arrangiati ma non ti toglierai più di dosso per la tua vita aver colto la differenza fra le cose che scivolano e l'emergere di una verità pertinente cogente trasparente che suscita la tua responsabilità adesso arrangiati io sto qua come tu vorrai se n'è andato è tornato una volta è tornato tante volte siamo diventati molto amici adesso penso che molto intelligente ovviamente che prezza segue una compagnia bellissima il nostro movimento a me ha aiutato io non so se io ho aiutato lui ma quell'episodio a me ha aiutato moltissimo perché la verità è potente in una società come la nostra che nega pure la domanda sul vero io posso insistere a dire quello che voglio ma se emerge la verità riconosciuta e giudicata si rinasce come soggetti per tutto questo ho un studente adesso un prete molto bravo ma potremmo trovare degli esempi faccio solo uno aspetta prima ti faccio una domanda poi ti faccio fare un altro esempio perché vogliamo capire abbiamo capito anche il metodo con cui si approccia Giussani al senso religioso il punto di partenza qual è il punto di partenza da cui effettivamente che indica Giussani per guardare al proprio senso religioso secondo me iniziamo subito ad adentrarci su questo perché dici ci sono molti strati anche di pregiudizie che tu hai su te stesso qualche volta allora da dove parto? parto adesso ci arrivo però devo dire assolutamente no lascio stare l'esempio ma c'è un'altra cosa che volevo assolutamente dire poi vengo sulla non la perdo la cosa che mi dici perché l'altra l'altra faccia della medaglia di questi criteri che come criteri sono oggettivi immanenti e dati e che nella loro applicazione si può sbagliare e di fatto si sbaglia Giussani faceva sempre io me lo ricordo all'esempio il solito capo in ufficio che si innamora della segretaria è sposato tre figli e dice che se ne va e se ne va in nome di che cosa? tradisce in nome di che cosa? nessuno tradisce in nome del tradimento nessuno si tradisce in nome di un'idea di felicità di un'idea di amore di un'idea di 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 felicità o di amore e e l'applicazione può essere sbagliata può essere molto sbagliata il negativo gli esempi purtroppo ce li abbiamo tutti molto vicini ma ma pensate anche a l'esigenza di di giustizia non penso che ci sia un'esigenza più forte al cuore di nessuno che l'esigenza di giustizia basta che tu ti senta ingiustamente trattato scoppia il mondo mettiti dall'altra parte mettiamoci dall'altra parte metti che tu vuoi fare giustizia ma dico a casa coi figli cioè fare giustizia coi figli non dico quando non vuoi fare giustizia tutti sappiamo bene anche quando non vogliamo fare giustizia ma poniamoci nel caso in cui la vuoi fare dici che ho due figli qui tre figli c'ho i dipendenti c'ho quel che vogliamo voglio fare giustizia con le mie mani io potrò mai fare giustizia che cosa è fare giustizia questa evidenza senza la quale non posso vivere perché non sopporto vivere nell'ingiustizia e le ferite che ci si porta addosso per le ingiustizie sono tremende tu dici va bene l'ho capito ma allora siccome io ho il criterio che la giustizia è un'esigenza del cuore ogni mossa mia è giusta vediamo e ci sarà sempre la possibilità di scoprire che quello che io riteniamo giustizia possa essere paragonato ad una giustizia più giusta e mi fa cambiare e mi fa dire pensavo che ero stato giusto fin dove potevo e il mio cuore continua l'esigenza della giustizia continuerà a correggermi perché sempre potrò riscoprire che il criterio immanente dato non messo da me potrà correggere le mie applicazioni scusa questa cosa ci tenevo adesso arrivo alla cosa che mi dicevi da dove si comincia si comincia vediamo da dove comincia il Don Giuse partiamo no dove vuole bene un attimo lui dice partiamo per un'indagine esistenziale come quella che stiamo inseguendo la proposta è partire da sé lui lo dice palesemente ed è un criterio molto molto forte quante scommesse quante scelte fa Giussani fortissime nel percorso del libro ecco dunque dobbiamo capire bene in che senso lui ci dice partire da sé partire dalla propria persona in un contesto quello di oggi dove narcisismo individualismo sono magari molto più forti che 50 anni fa lui dice si parte bene da sé quando si parte dalla propria persona che si guarda in azione in azione nella vita quotidiana si sorprende nel vivere ecco io dico lui suggerisce un criterio di metodo molto molto interessante come mi posso accorgere da dove si comincia ci occorre identificare la struttura della reazione che ognuno di noi ha davanti alla realtà non l'introspezione non l'isolamento ma vedermi in azione accusare il colpo per questo è reale è salutare perché se non ci fosse reale saremo tutti fuori di testa la realtà è un principio di salute mentale ma cioè tu ti vedi in azione ti vedi in rapporto con reale cosa vuol dire lui quando dice nell'agire negli affetti che vivi nel lavorare nel voler bene nell'impegno culturale pubblico politico il coinvolgimento con ogni aspetto della vita ti dà sempre un feedback che guardato secondo i criteri detti prima è una sorgente inesauribile di tensione alla comprensione integrale della vita non abbiamo bisogno di altro non ci manca la vita e non mancando la vita non mancando la realtà che ci provoca tutti i giorni si ridesta tutto il dinamismo che consente di crescere nella vita seguendo i criteri giustamente vissuti vado la prossima domanda si lega a questa perché a volte ci troviamo addosso o penso anche incontrando qualcuno un cuore che sembra un po' addormentato allora come si risveglia un cuore assopito Papa Bergoglio all'epoca arcivescovo di Buenos Aires nella prefazione dice non si può iniziare un discorso su Dio se prima non vengono soffiate via dei ceneri che soffocano la braccia ardente delle domande fondamentali spero non mi ascolti mai ho in mente un collega insoddisfatto della vita sentimentale lavorativa su tanti punti di vista in un dialogo scoprire quasi che uno sia contenti che sceglia di accontentarsi ecco dal punto di vista dell'educazione di ognuno di noi per i ragazzi di 12 anni di 14 per i vostri figli io ho 62 ho tantissimo bisogno per il percorso educativo nostro per la comunicazione della nostra esperienza per la condivisione della nostra esperienza è una questione radicale come si destano queste domande come si ridestano ecco io vado subito a quella pagina molto famosa in cui Giussani proprio risponde mi pare a questa tua preoccupazione qual è la qual è la struttura della reazione che suscita il reale la prima la più originaria e lui usa quell'esempio molto molto originale molto bello dice se potessimo nascere con la consapevolezza di un adulto la struttura della reazione davanti al reale sarebbe lo stupore le cose la cosa è reale e l'esempio non è artificioso a me sembra molto molto acuto molto profondo di sicuro perché tutti ci possiamo riconoscere persone normali tutti noi ci possiamo riconoscere in questa prima descrizione della struttura di una reazione commossa di uno stupore davanti alle cose solite mi sono venuti in mente un libro che avevamo pubblicato tanti anni fa con testimonianze degli astronauti americani e i cosmonauti russi che tornavano alla terra una cosa già un po' di anni fa ecco quando rileggendo alcuni la cosa che emerge subito è che per esempio diceva uno uscendo dalla navicella spaziale dice mi ha preso una strana sensazione di felicità la terra aveva un odore ineffabilmente dolce e profondo che piacere sentire il vento dopo lunghi giorni nello spazio un altro diceva dopo scendere dalla nave ero così felice di vedere il terreno già coperto dal primo sottile strato di neve autunnale volevo gettarmi a terra abbracciarla e premere le guance su di essa quanti russi hanno visto nella loro vita un dito di neve sulla terra tutti tranne qualcuno del mare nero il mare nero lì tutto il resto più vanale più ovvio che la neve sulla terra in Russia non c'è basta recuperare lo sguardo originale che ti viene voglia di buttarti per terra pieno di felicità ma il don giusto non fa solo un esempio per stimolare i sentimenti cioè nel senso di dire la terra mi fa stare di buon umore ma legge tutta questa appena che si può moltiplicare in tanti altri esempi come un indizio niente meno che della profondità stessa del reale cioè lo stupore non è appena un sentimento ma la strada che porta verso un oltre che è della stessa natura dello stupore quello che non posso definire e non posso immaginare mi appare talmente corrispondente da suscitare stupore e commozione ma sarà falso ma sarà un'apparenza il don giusto parte dallo stupore come porta come finestra come punto di fuga per indicare non per rassicurarci per indicarci l'unica cosa che ci può rassicurare la realtà è buona non solo pare non solo è che mi appare mi si dona così come appare come buona ecco lì la certezza ecco lì la consistenza ecco il tuo collega ed io e tutti possiamo essere spenti finché avremo per grazia l'occasione di un incontro che desta lo stupore che ridesta il dinamismo umano ti mette in azione e via dicendo questa cosa è decisiva ma è decisiva per la cosa che dicevi tu hai detto all'inizio che il Don Giuse dice figuratevi se questa esperienza descritta con l'esempio è profonda che quando lui la sviluppa dice ma vai 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 più vai più in là vai dentro questa esperienza dice niente meno che alla fine ti accorgi che all'origine di te c'è un qualcosa di misterioso al quale non puoi dire altro che tu non puoi dire meno di tu a questa misteriosa origine nel profondo di te la strada a Dio sarà molto più realisticamente compresa esistenzialmente vincolante quando chiunque sentirà l'annuncio cristiano come diceva il Don Giuse quando ha fatto il commento facciamo un po' per la Spagna ha fatto il commento della Sevillanas della Dios algo se muere nell'alma quando un amico se va e il barco se hace pequeño quando si perde nel mar la nave la barca diventa sempre più piccola quando si allontana nel mar e lui dice questa è l'esperienza umana più nobile quel punto di fuga che si perde nell'orizzonte e dice però l'uomo che se lì appoggiato al molo vede invece che si rovecia il movimento e questa nave piccolissima comincia a avvicinare viene 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 dentro la nave c'è un uomo che salta fuori ti abbraccia e dice il mistero si è fatto uomo ma chi potrà mai capire la frase fino a a tremare il mistero si è fatto uomo se dire mistero non suscita l'esperienza di questa misteriosità di bene inconoscibile che attraversa tutti gli stratti del vivere di cui non conosci il nome non sai dire il suo nome e non dice il tuo nome ma l'uomo che scende a terra e ti abbraccia mistero fatto uomo lui c'ha il nome e lui sa il mio nome ecco per cui se 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 non se non si percorre integralmente le parole più sacrosante della nostra fede possono scivolare via senza neanche intaccare di un millimetro le persone e invece sono veramente la porta della salvezza per chi domandandosi sulla vita chiedendosi cosa ci faccio qua che non capisco un tubo o spento eccetera mi ridesto perché qualcuno passa vicino a me con questa capacità qualcosa può stupire no? si può ridestare da lì allora abbiamo ancora qualche minuto vado rapida però proprio perché di stupore parliamo la prossima domanda rapidissima te la faccio a partire da quello che mi ha detto che mi ha chiesto un altro collega ne ho quanti ne vuoi per altre domande ancora in questi giorni preparando l'incontro tenevo il libro dentro la borsa evidentemente si intravedeva un collega incuriosito lo ha l'ho tirato fuori e dopo il titolo ha guardato la quarta di copertina ha letto vivere intensamente irreale mi si avvicina e mi fa ma uno che vive intensamente irreale che fa? io gli ho detto vieni a ascoltare Prades risponde lui ho direttamente rimanato più in là ma Giustani dice la formula dell'itinerario al significato ultimo della vita è vivere intensamente irreale che significa? bello ecco io lascio questa domanda aperta a tutti veramente qui non è che dalla parte del palco sono gli attori e da lì si sono gli spettatori mi spiace ma qui gli spettatori non ce n'è oggi non ce n'è siete venuti per caso non so perché siete venuti ma ci siete e non siete spettatori lasciamo io la lascio aperta che cosa vuol dire vivere intensamente irreale di chi posso io dire che conosco nome e cognome quello lì corrisponde al testo vive intensamente irreale Taylor dice questa è l'epoca dell'autenticità ascoltare io penso tantissimo in musiche I want it all intensissimo o no and I want it now quello ma andiamoci da fare molto più bello dove si può incrociare uno la cui vita mi desti la corrispondenza dell'intensità del reale come itinerario al significato ultimo e questa è la seconda parte della frase che non va persa per poter giudicare il vivere intensamente si può fare in tanti modi il Don Giuse guarda te dice per vivere il significato per raggiungere il significato ultimo io sarò curioso fra un po' di avere tante indicazioni di persone luoghi gesti dove vive il reale intensamente in modo tale di essere in cammino al destino ti faccio ancora una domanda perché vorrei capire che interesse può avere riflettere su questi temi sulla religiosità sul senso religioso anche per chi magari crede di aver trovato una risposta a queste domande per chi è già in un percorso di fede non solo insomma perché non è un passo indietro una ripetizione bene bene non che crede di aver trovato una risposta no che l'ha trovata cioè è molto vera la risposta il Don Giuse aveva fatto aveva una volta detto quella battuta il senso religioso l'abbiamo scritto noi cioè noi lui ma prendiamola così noi noi cristiani noi cattolici cioè noi che abbiamo incontrato Gesù Cristo che dall'incontro fatto abbiamo potuto recuperare l'umano secondo lo spessore la ricchezza la la precisione la la compiutezza che si descrive qui per cui il il cammino della fede mi ricordo per esempio Don Giuse l'ha detto ma mi ricordo l'espressione che usava Julian Caron tante volte il percorrere il senso religioso come verifica della fede cristiana ecco quello che vogliamo fare noi adesso cioè perché come come faremo noi come farò io a comunicare l'intensità il gusto la passione per la fede se quando dico incarnazione del verbo fatto uomo mancasse tutto ciò che ho detto prima e invece com'è diverso il poter dire a uno vieni con me o stiamo insieme o vengo io da te se la mia fede è come retroalimentata tenuta e mossa da questa intelligenza dell'umano che scatta dalla fede ecco io penso che una proposta come questa consenta non è meccanico niente di meccanico ma consenta di scappare dal formalismo dal formalismo nel vivere la fede per noi per noi cristiani e cioè cogliere il legame profondo esistenziale fra ognuna delle proposte che ci fa il cristianesimo che ci fa il signore che abbiamo incontrato e l'umano che viene a cercarlo e dall'altra parte se il senso religioso non riesce a trovare quello per cui si muove di solito decade è stata un po' la storia decade in particolari che prendono il posto della totalità perché senza significato non si vive se io non riesco a incontrare il significato reso vicino reso carne lo tradurrò secondo la mia immagine o la mia definizione l'unico che non lascia chiudere il cerchio della definizione del senso religioso è Cristo remoto Cristo come diceva la piecchia teologia senza Cristo la tentazione di chiudere l'immagine chiudere la definizione è troppo forte vorrei di concludere solo ricordando che questa è la presentazione del libro ma è anche la possibilità di un approfondimento la proposta di un lavoro sul senso religioso per tutti molto bello come aveva richiamato Davide l'hai ricordato anche tu lo ridico velocissimo quando la prefazione del cardinale Bergoglio lui dice questo libro è un libro per tutti ed è un libro per tutti da solo è un capolavoro ma secondo me non basta perché non è nato così proprio per come è nato la cosa più affascinante di questo libro è che possa essere una dimensione di un cammino educativo integrale del approfondimento dell'esperienza integrale cristiana umana che che uno ha incontrato e grazie alla quale è arrivato anche al libro ecco non è non è un fai da te non è un manuale di autoaiuto non so come si dice di così non è quello è l'espressione di una proposta educativa che fa parte di un percorso di un cammino che non può non può destare l'interesse dico io se non e se non ti raggiunge attraverso una qualche realtà che destra in te lo stupore e che ti mette in movimento per questo e in questo modo il libro guadagna tutto il suo tutto il suo peso e dico finisco Papa Francesco ci aveva chiesto a ottobre mi aspetto molto di voi andate a fondo io in mente penso che una delle cose più belle in assoluto del cammino educativo che che condividiamo e al quale possiamo invitare tutti è proprio questa esperienza integrale cioè di far parte di un luogo vivente che guarda l'umano in questo modo ed è così che si apre a me interessa questa vita questa realtà che consente di stare nella modalità giusta di fronte a tutte le sfide di cui abbiamo parlato prima quelle enormi e quelle quotidiane di cui parla Francesco col cambiamento di epoca in questo senso a mio avviso questo libro è una risorsa di eccezionale valore educativo culturale missionario per proporre a tutti perché veramente conviene a noi richiamiamo Davide Prosperi per le conclusioni grazie grazie a voi per l'attenzione ecco allora io adesso vorrei concludere questo incontro proprio dando seguito a quello che diceva adesso Javier Prades non si tratta appena certamente lo è ma non soltanto di una presentazione di un libro ma è una proposta quella di questa sera la proposta dell'inizio di qualcosa inizio di un lavoro e quindi io mi permetto una breve nota su ciò che noi di Comunione Liberazione siamo soliti chiamare Scuola di Comunità che è proprio contenuto di questo lavoro Scuola di Comunità è un gesto settimanale o quindicinale di solito guidato da comunità uno dei responsabili locali del movimento che intende approfondire i contenuti del testo proposto attraverso il paragone serrato tra il testo di Don Giussani e la propria esperienza come abbiamo sentito a forma dialogata e come già ci siamo detti all'inizio è aperto a tutti non occorrono precondizioni di appartenenza credo religioso competenze culturali metteteci quello che volete basta avere apertura all'ascolto interesse e impegno con la propria umanità infatti questo gesto è nato dalla passione educativa di Don Giussani che come abbiamo sentito ha speso tutta la sua vita per l'educazione formando giovani e non più giovani a uno sguardo libero e serio a sé e alla realtà quindi permettetemi di leggere alcuni passaggi tratti da diversi testi nei quali Don Giussani stesso introduce il significato e lo scopo della scuola di comunità cito la scuola di comunità è innanzitutto un lavoro è il lavoro che costruisce è il fenomeno umano per cui plasmando la realtà creata la realtà che ci circonda qualcosa si erige di organico di ospitale di utile di pacifico di umano ma mi domandavo adesso perché la scuola di comunità perché abbiamo creato la scuola di comunità tanti anni fa la vita ha uno scopo e il fatto che ci siano tanti problemi che urgono nelle nostre giornate è proprio la conferma che la vita ha uno scopo perché se non avesse uno scopo non ci sarebbero problemi questo noi abbiamo voluto istituendo la scuola di comunità che non ci sia problema umanamente sentito nella nostra vita che non vi trovi risposta risposta adeguata la risposta adeguata a un problema sono le ragioni costitutive di quel problema questo dà alla vita curiosità e gusto risolvere un problema della vita proprio della vita dà curiosità e gusto ma questa è stata la scoperta delle prime ore di scuola di religione che io ho fatto mi sono dovuto accorgere che la fede ha più ragioni che non quelle reperibili dall'intelligenza umana come tale la fede è più capace di risposta ai problemi umani di quanta ne abbia come capacità la ragione stessa per questo l'abbiamo amata questa fede perché essa si è mostrata ai nostri occhi come una grandezza più affascinante della grandezza del nostro pensiero di uomini e più accogliente di quanto possa essere accogliente un cuore generoso di uomo perché dunque fare adesso commento io la scuola di comunità sul libro che abbiamo presentato stasera il senso religioso è il primo di una trilogia di testi con cui Don Giussani ha completato il percorso di catechesi per le persone che incontravano lui o l'esperienza di fede nata dall'incontro con lui gli altri due testi si intitolano all'origine della pertesa cristiana e perché la chiesa e trattano rispettivamente dell'esperienza dell'incontro con la figura di Cristo il primo storicamente e esistenzialmente e di come questo fatto permane nella storia attraverso la compagnia umana della chiesa il secondo per questo complessivamente la trilogia di cui il senso religioso è il primo passo ha assunto in Don Giussani con un gioco di parole la definizione di percorso percorso tutto attaccato cioè appunto un corso che offre un percorso a più riprese lo stesso Don Giussani ha fatto riferimento al valore di questa scuola di comunità sul senso religioso e mi prometto un'altra citazione avevo detto prima che incominciassimo la scuola di comunità sul senso religioso che una cosa che mi una cosa mi permettevo di desiderare che accadesse alla fine del lavoro che avessimo percepito almeno un po' che tutto e tutto di noi dipende da qualcosa di più grande di noi di più grande non nel senso di più voluminoso rispetto alla nostra immaginazione ma pur sempre della stessa natura di ciò che riusciamo a immaginare bensì nel senso di altro totalmente altro come ha ricordato una volta il Papa citando un grande teologo protestante la nostra ragione non ci arriva nulla può essere paragonabile a Dio noi siamo un nulla di fronte a te ora questo mistero è il secondo passo il primo è che il Dio di cui ci ha parlato Cristo che ci ha rivelato Cristo perché nessuno lo ha mai visto se non colui che è disceso dal cielo è mistero è un mistero che entra nella storia il Dio è un Dio storico questo è l'insopportabile dalla cultura umana di tutti i tempi fino all'idea all'intuizione che la realtà dipende da qualcosa d'altro tanti sono arrivati perfino Voltaire anche gli uomini più ostili alla Chiesa e al cristianesimo ma che questo mistero abbia avuto a che fare con la storia che Dio sia diventato un Dio storico questo non è facilmente sopportabile perché non è concepibile proprio perché il mistero non è concepibile da noi tanto meno possiamo concepire come il mistero possa stare con e dentro la miseria del tempo e dello spazio quella miseria che ci sentiamo addosso e che ci porta dal mattino incerto alla sera stanca che ci fa attraversare la maggior parte dei momenti in modi distratti e banali che ci fa impegnare in atteggiamenti normalmente così meschini Dio entra in queste cose il mistero è entrato nella storia è un Dio storico e dice in un'altra occasione l'uomo di oggi mai ha realizzato una schiavitù fin mentale e nel cuore come quella attuale tanto più tremenda quanto più egli pretende di farsi da sé quanto più dimentica la sua dipendenza totale e originale io ti ho amato di un amore eterno ti ho tratto dall'essere ti ho tratto a me avendo pietà del tuo niente una frase che corrisponde a quella che Cristo ha detto prima di andare a morire senza di me non potete fare niente occorre avere questa coscienza e questo sentimento che sono dati dalla cosa più sconcertantemente evidente noi potevamo non esserci non ci siamo perché ne abbiamo avuto diritto perché abbiamo avuto la forza o la capacità di darci la vita deve perciò dominare il sentimento della propria creaturalità dell'essere stati scelti a vivere scelti a essere non c'era alcuna ragione perché io esistessi e non altri infinitamente altri la Bibbia parte dalla coscienza e dal sentimento primordiale profondo e ultimo di questa dipendenza totale ecco del resto qui sta il contenuto fondamentale della scuola di comunità sul senso religioso oggi vediamo bene che i ritmi della vita nel susseguirsi frenetico delle giornate ci spingono spesso ad agire reattivamente in una rincorsa di risultati che rispondano tempestivamente a stimoli esterni alla nostra persona ma proprio per questo sentiamo sempre di più il bisogno di avere dei momenti per noi per sostare a guardare appassionatamente la consistenza del nostro io come abbiamo sentito senza la quale tutta questa frenesia ci porterebbe verso una progressiva assenza di un senso del vivere io credo che iniziare un lavoro come questo sia un'opportunità per rimettere al centro del nostro interesse il nostro vero io e la possibilità di recuperare continuamente un rapporto con la realtà davvero libero dal lavoro la famiglia e figli gli amori passioni malattie solitudine gioie e dolori tutto può avere un significato per chi non si rassegna a vivere rinunciando a cercare un senso all'esistenza stessa e quindi concludo con un'ultima citazione di Giussani breve il mio augurio perciò è che abbiate a sperimentare come ogni problema sia abbordabile con ragioni che presentono o indicano la soluzione e che tutte queste indicazioni la fede corregge e conclude è come quando ci si alza all'alba che è ancora crepuscolo e non si vede niente di chiaro eccetto le ultime stelle si intravedono le sagome delle cose delle case degli alberi delle colline a un certo punto avviene un fenomeno che sembra normale ed è strano non deriva dal crepuscolo anzi dopo si capisce che il crepuscolo deriva da esso è il fenomeno del sole che sorge allora le case gli alberi i colli si definiscono secondo la loro vera natura secondo la loro vera forma e tutto si compone in una tranquillità dentro la quale l'uomo è sicuro incomincia ad agire sicuro vi auguro che la scuola di comunità sia per voi questo sole che sorge dalla confusione crepuscolare delle intuizioni naturali dell'intelligenza naturale allora per questo invitiamo tutti voi a fare insieme questo lavoro senza la pretesa di cambiare il mondo ma con la speranza di cominciare a cambiare noi stessi e operativamente le informazioni sui luoghi e gli orari delle varie scuole di comunità le potete chiedere alle persone che vi hanno invitato stasera oppure scrivendo alla segreteria di CL a questo indirizzo mail info chiocciola clonline.org grazie di nuovo a tutti in particolare a Don Prades e Irene Alisei e buona serata e a presto grazie 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 grazie